In questo periodo sta nascendo un movimento politico del nord lombardo che sicuramente vi ha anche attaccato. Come commentate questa situazione? La situazione dell'unione alpino-padano, padano-alpino adesso non mi ricordo di preciso come si chiama, non ci lascia particolarmente preoccupati per il semplice motivo che è composto da persone che noi ben conosciamo, visto che hanno condiviso con noi per anni, per non dire decenni, un cammino politico. Il fatto che adesso, in un momento nel quale l'attività di governo sicuramente sta segnando il passo, loro rilancino non tanto un'attività politica diversa da quella della Lega, perché mi sembra che i messaggi poi siano quelli già egemonizzati, direi anche, dal nostro movimento, ma la necessità di un cambio di dirigenza mi lascia abbastanza perplesso. Penso che battaglie di questo tipo, se la loro finalità, come mi sembra aver capito, è quella di contestare Bossi, Maroni, Calderoli, insomma la dirigenza della Lega, se è questa, beh, forse avrebbero fatto meglio arrestare nella Lega, fare una battaglia all'interno del movimento, uscire, spaccare le forze e comunque affermare di condividere quello che è il messaggio della Lega, sinceramente non riesco a capire politicamente dove potrà portarli. Auguro a loro comunque, visto che hanno fatto questa scelta, e visto che conoscono perfettamente le difficoltà che tutti i partiti autonomisti hanno, di contribuire comunque per contribuire a una maggiore libertà dei nostri popoli. Penso però purtroppo che non avranno un gran futuro, considerato che non mi sembra che vi siano novità dal punto di vista tematico, ma sia soltanto una contestazione nei confronti di una classe dirigente che io vorrei semplicemente ricordare fino a nove mesi fa, che ha portato il nostro movimento a spondare abbondantemente il 10%. Grazie.